Il 17 luglio del 2014, sui cieli di Donetsk, nella regione del Donbass al confine russo-ucraino, viene abbattuto l'MH-17, partito da Amsterdam per arrivare a Kuala Lumpur, in un vero paradiso in Malesia, per un errore. Un errore dei separatisti ucraini filorussi che, pensando di abbattere un aereo nemico, invece colpiscono un aereo di linea. I detriti di questo aereo si spargono su tutta l'area, i morti sono più di 250, se non mi sbaglio, se non mi ricordo male, e si trovano detriti ovunque. Uno di questi detriti è un passeggero ancora agganciato alla propria sedia, al proprio sedile, che viene a precipitare vicinissimo alla casa dei protagonisti di questa vicenda, che ci racconta Marina Ergorbac, una regista quarantenne ucraina, e che firma forse il primo film ucraino del 2022, e che lo fa con una grandissima forza, una grande sapienza narrativa. Perché in questo modo lei aggancia la storia generale che tutti conosciamo, la storia del mondo, alla storia di questi due personaggi, che impareremo ad amare nel corso del film. Entrambi, entrambi. Sono loro due, sono Irka e Tolik, sono marito e moglie, sono due pastori, due contadini per meglio dire, non sono due pastori, sono due contadini, che hanno sì, hanno una mucca, hanno qualche gallina, hanno un'automobile molto povera, con la quale però vanno avanti e indietro, e soprattutto che dovrebbe servire adesso a Irka per andare a partorire, perché hanno il primo figlio in arrivo, ed è su questo figlio che vertono tutte le loro riflessioni, tutti i loro pensieri, tutte le loro fantasie. Ma purtroppo questo errore dei separatisti filorussi non è l'unico del film, ne commettono un altro, una granata partita per caso, che va a distruggere, ad abbattere il muro, un muro della loro casa, della casa di Irka e Tolik. Si trovano così a vivere, ed è questa l'idea narrativa centrale, potente, luminosa del film, si trovano a vivere sostanzialmente in piazza, anche se davanti non c'è una piazza, c'è un prato con una strada, passano poche persone, ma comunque passa il mondo, e loro si trovano a vivere con questa parete caduta. È su questa parete caduta che si fonda tutto il discorso filmico di Marina Ergorbach, cioè un discorso che parte dall'elemento che per me è più struggente di questo abbattimento. Chi lo avrebbe mai detto? Ma certe volte nell'abbattere un muro, un muro di casa, la cosa più grave che si perde è la tappezzeria, perché su questa tappezzeria loro avevano stampato, in questa carta da parati, avevano stampato dei paradisi forse tropicali, non lo so, ma dei paradisi di tramonti, di mare, un ultramondo per loro, un mondo irraggiungibile per loro. Però lo sappiamo, lo abbiamo anche già detto in precedenza su questo canale, il desiderio è una cosa molto forte, molto complessa, articolata. L'avevamo già, ne avevamo già parlato, il verbo peto in latino vuol dire chiedere per ottenere, fare una petizione, chiedere per avere per sé, quindi esprime un grande desiderio di concretezza, ma sta dietro alla parola greca, pteron, che ne è la genesi. Pteron però non vuol dire chiedere per ottenere, vuol dire ala. Perché? Perché volare è il nostro modo di desiderare, o desiderare è il nostro modo di volare, diciamo meglio. E quindi paradossalmente questo cielo in una stanza si trova su questa tappezzeria, il cielo che inseguivano i viaggiatori per Kuala Lumpur. È lo stesso gancio che c'è, la stessa immagine, di stessi paradisi. Loro ce l'hanno lì la meta, se la sono fatta lì. Ma anche quando te la sei fatta nelle tue fantasie, nei tuoi desideri, nei tuoi sogni, la vita, la guerra, la storia del mondo, te la possono togliere in qualsiasi momento e per qualunque ragione. In questo caso la ragione è una guerra e la ragione è un errore che si commette durante la guerra. Il problema è che quando cadono queste pareti si apre tutto un mondo. Regi Debré dice nel suo Elogio delle frontiere, Attenzione perché quando non c'è limite a, è perché non c'è limite tra le cose. Spieghiamola bene questa cosa. Non c'è limite alla violenza, all'indecenza, alla guerra, ai soprusi, agli stupri, perché non ci sono più i muri. I muri che separano, non per separare, ma per distinguere che cosa deve stare da una parte e che cosa deve stare dall'altra. Cosa deve stare all'interno delle nostre case e cosa deve stare all'esterno. Che non è un abbattimento che va oltre l'abbattimento di un cumulo di pietre, come era quel muro. È l'abbattimento di tutta una storia. Allora non è una questione di proprietà dell'immobile, è una questione di appropriatezza dei luoghi, di appropriatezza dei tempi. Ed è di questo che ci sta veramente parlando. Quando una donna deve partorire, e però tutta la strada è lì davanti, e però non c'è più un'intimità, non c'è più la possibilità di un discorso. E quando manca questo limite nei rapporti interpersonali, che cosa è il mio ruolo nella tua vita, e cos'è il tuo ruolo nella mia vita, quindi fino a dove posso spingermi a dirti cose, a fare cose, fino a dove posso permettermi, perché poi il mio ruolo finisce. Ecco, quando manca quel muro, quando manca quel senso di limite, che è il rispetto, che è il pudore, che è il mantenere la delicatezza delle relazioni, allora qualunque cosa diventa possibile. Quando non c'è limite tra, non c'è più limite a. E quindi può succedere qualsiasi cosa, anche che i soldati entrino, anche che vogliano farsi servire da una donna che ha le doglie del parto, servire da mangiare da una donna che ha le doglie del parto, che rischia di perdere questo bambino, e anche può succedere che tra un marito e una moglie avvengano delle divergenze enormi, di cui prima non si parlava, dal parlare di un futuro comune al parlare del loro passato e di che cosa sono, e di litigare su questo. Una è fedele alla propria terra e vuole rimanere nella propria terra e difende la propria vita, ed è lei, e uno invece sarebbe pronto ad andare in modo forse più opportuno o opportunistico, quello è un parere, ma in modo certamente più strategico per la salvezza del corpo, per la salvezza della fisicità, della vita. Però la vita ce l'ha in grembo lei, e allora ci sono anche queste due grosse famiglie di cui possiamo far parte. Una è la famiglia di chi dà la vita per un ideale, per un'idea, appunto una convinzione e questo è lui pronto a, diciamo, favorire, a ammazzare la mucca, a dare la vita della mucca per alimentare i soldati, e forse chi lo sa, a dare anche la propria un domani, tutto sommato una divisa ce l'ha lì, anche se è molto chiusa nel cielo, e lui proprio un leone non sembra, ma lei è disposta a dare la vita, per dare la vita, cioè per dare la vita a questo figlio, per generare questo figlio. E sono due modi di dare la vita molto diversi, dare la vita per qualcosa, dare la vita a qualcuno. E naturalmente lui sembra un po' meno coraggioso di lei, un po' meno, ecco, io non so se si spingerebbe fin lì, ma certamente le persone che gli sono, diciamo, teoricamente amiche, che lui si tiene buone, diciamo così, sono tutte pronte a morire per il separatismo, per ciò in cui credono comunque. E qui c'è la storia dei confini, la storia dei confini che anche in questo conflitto a cui noi stiamo assistendo, che è figlio di quelle prime origini che Ergor Baccia ci racconta, sono dei confini interpretati da dentro fuori in due modi diversi, dalla parte ucraina e dalla parte russa. Sono due narrazioni, entrambi si stanno difendendo da un'aggressione, avete sentito, no? Questa narrazione dice che entrambe si stanno, e naturalmente noi ci schieriamo da una parte o dall'altra, più da una che dall'altra, mi sembra evidente, ma anche noi dobbiamo sapere che anche la nostra è una narrazione, che anche la nostra è, e non è per togliere un senso di oggettività, ma perché questa supposta oggettività è sempre vista da noi, è sempre un'oggettività osservata e il nostro punto di osservazione è comunque parziale. Avviene che in questa famiglia questo punto di osservazione è così diverso, anche fisicamente diverso, perché un conto è essere un uomo ancora forte e un conto nel pieno delle proprie forze e un conto è essere una donna che sta per partorire, che certamente è una giovane donna, ma sta per partorire di un parto abbastanza difficile. Non spoileriamo se e come può avvenire questo parto, devo dirvi però che anche nella rappresentazione, nel racconto di questo finale del film, sicuramente lei si espone a dei rischi di critica, credo che le verrà fatta, qualche critica di eccessiva coreografia della costruzione filmica, però credo che sia una costruzione che per certi versi salva il film da una, come dire, da un voler essere troppo realistico e quando non hai né i mezzi per farlo, perché è un film molto povero, né probabilmente l'intenzione di farlo, non è un film che si basi sulle cose orripilanti o sul raccapriccio degli arti mozzati in guerra o delle sfigurazioni di guerra, ma è un film di interiorità che però passa da una concretezza estrema. Io credo che questo finale del film nel quale comunque c'è un potente riprendersi tutti i poli del conflitto da parte dell'assoluto, un potente riprendersi della vita, di tutti i conflitti interni che vorrebbero toglierla e ci sono anche due poteri contrastanti, il potere degli uomini che è il potere di togliere la vita e il potere delle donne che è il potere di dare appunto la vita e credo che ci sia un po' un ruolo materno di lei nel senso delle donne che sono madri del mondo perché lo dico perché lei ha un fratello che confligge con suo marito perché mentre il marito è separatista il fratello assolutamente no si mangiano in testa a vicenda il fratello gli dice tu non sei un separatista tu sei uno schiavo e questa cosa porta molto male a entrambi lei è madre di entrambi questi due uomini che non sanno vivere che non sanno vedere che cosa sta davvero avvenendo di importante in quel momento lì gli uomini vedono che quello che sta avvenendo nel momento presente di davvero importante è il conflitto è il pericolo di perdere la vita la donna vede che ciò che davvero sta avvenendo in quel momento è che la vita si sta generando che la vita sta nascendo è davvero il punto di vista che spacca il mondo è il punto di vista che però in questo film dedicato alle donne alla fine è clamorosa la vittoria del punto di vista della vita insomma e credo che non ci sia neanche tra l'altro nessun buonismo in questo film nel senso che in questo momento credo che sia un popolo che col buonismo ha molto poco a che fare perché la realtà è troppo presente è troppo forte con la sua violenza con neanche noi ragazzi il nostro cinema neorealista è tutt'altro che buonista tutt'altro che buonista casomai dopo sono successe cose diverse ecco però possiamo parlare di altro direi che se una che non è un'obiezione perché è un film che io sostengo a spada tratta però se c'è una perplessità su questo film è che molto virgola molto spesso quando ci sono dei film di questo tipo in cui ci sono delle forti contese che sono socialmente impegnative e storicamente autentiche e drammaticamente attuali chi gira chi scrive fatalmente scrive un po' coi buoni e i cattivi allora lei non è che proprio ci caschi in pieno però un po' sì ci sono un po' i buoni e i cattivi gli uomini sono un po' tutti tonti diciamo le donne ce n'è una sola sollevano il mondo e lo reggono completamente da sole vabbè no ok però va bene va bene lo stesso va bene lo stesso perché perché in questo momento è un film da fare era un film da fare ed è un film da vedere chiudo con un'unica considerazione di tipo proprio cinematografico esterno ecco noi molto spesso siamo portati a pensare che magari per l'Italia sia difficile fare dei film di un certo tipo perché ragazzi i film belli in un certo senso hanno anche un costo un numero di inquadrature un allestimento una coreografia gli attori eccetera no ecco poi ci sono ogni tanto alcuni film che ti sverniciano e ti fanno vedere molto chiaramente che non è una questione di soldi è una questione di verità a cui sei connesso della tua necessità di dirla del tuo voler raccontare questa storia senza pensare immediatamente a un mercato senza pensare esclusivamente a piacere ma raccontare una storia perché in quel momento è la tua verità e in quel momento ti è necessario raccontarla io spero che anche noi magari prima o poi vedendo questi film magari qualcosa succede anche qui buona visione